ma buonasera miei piccoli salvadanai ecco ecco un altro video in cui parlo del patreon però ne parlo in maniera abbastanza generica ma neanche poi tanto nel senso che ormai va di moda per ogni youtuber aderire a questo patreon ovviamente aderire nel senso che si iscrivono per farsi pagare dai propri iscritti ed è veramente una cosa vergognosa c'è qualcuno che comunque non è d'accordo come me e qualcuno che invece chiede soldi a tutt'andare ma comunque si tratta sempre di youtuber con dei numeri abbastanza grandi tra l'altro di iscritti e questo mi lascia ulteriormente perplessa perché potrei capire un piccolo canale che magari in qualche modo vuole effettivamente crescere e quindi chiede delle donazioni ma quando si tratta di persone con 300.000 500.000 iscritti io mi chiedo veramente dove vogliono arrivare poi con le solite scuse per ampliare mio canale per aumentare la qualità dei video per comprare gli strumenti ma ci prendete per scemi ma veramente ma veramente non potete andarvi a comprare una videocamera veramente non potete andarvi a comprare un telone verde che non mi viene in mente come si chiama adesso green green qualcosa ma ma chi se ne frega non mi viene in mente per cui ma davvero chi pensate di prendere per i fondelli adesso lasciamo perdere la cattonacci che ormai lo conoscono tutti ormai abbiamo capito che vuole sopravvivere grazie ai propri iscritti visto che adesso vuole addirittura andare a conviverci veramente a cattonacci quando ho saputo sta cosa mi sono detta è un genio del male comunque a parte questo non voglio parlare di lui perché ormai è un argomento che puzza il suo però ultimamente io ho visto un video di di questo youtuber abbastanza grosso che sarebbe l'inspiegabile probabilmente qualcuno che segue me può darsi che seguirà anche lui in cui recentemente mi sono trovata anche su instagram una pagina sponsorizzata per accattonare pure da lui che ha la bellezza di 365 mila e 873 iscritti quindi andiamo a vedere anche quante visualizzazioni fa che non sono poche anzi qua c'era già qualcosa però se andiamo su video possiamo vedere che non ha poche visualizzazioni cioè porca miseria questo al mese prende abbastanza adesso poi spero che le entrate nelle sue tasche non siano provenienti soltanto da google però adesso non venitemi a dire che sto tipo ha bisogno di gente che aderisca ad un patrio tra l'altro un patron abbastanza modesto mettiamolo così mi sembra che si vada dai 2 euro 5 euro fino ai 15 contro la cattonacci che se gli dovessi donare 100 euro diventi un super mega iper eroe wonder woman gli facciamo un baffo ecco quindi resto sempre più senza parole perché effettivamente quelli che accattonano sono quelli che hanno più iscritti e più visual ma dove volete andare cioè io io potrei capire e l'ho detto un sacco di volte apprezzerei molto che voi diceste proprio non voglio di lavorare youtube è una fonte di guadagno abbastanza facile nonostante io debba magari documentarmi per fare questo video montale eccetera eccetera però è sempre meno faticoso che andare a zappare la terra fare l'operaio eccetera eccetera piuttosto che dire che ne so non sto guadagnando abbastanza aiutami poi se vai a sponsorizzare la tua pagina youtube su instagram è forse dei soldini ce li hai perché sinceramente non prendiamoci per i fondelli sono rimasta un po delusa dall'inspiegabile perché comunque fa dei video anche interessanti però io sinceramente non mi sgancerei un centesimo oltre al fatto che comunque adblock è sempre perennemente attivato perché comunque adblock io non lo disattiverò mai e a sto punto non lo disattiverò per nessuno forse per me stessa forse per me stessa potrei disattivarlo ma comunque mi piacerebbe proprio sapere le vere intenzioni di questi di questi signori che chiedono soldi perché mi sembra tanto una cavolata dire voglio aumentare la qualità dei video voglio andarmi a comparare degli strumenti di piacere cioè scusate degli strumenti di montaggio video particolari ma per fare cosa cioè per fare cosa allora già quelli che vogliono comprarsi la super mega videocamera per far vedere proprio faccione già lì mi viene da pensare ma devi veramente andare a comprare una super mega videocamera hd per far vedere la tua faccia qui non è che si veda poi chissà cosa fa dei montaggi si vedono delle foto lui ci parla sopra sostanzialmente forse il lavoro più grande è la ricerca delle notizie più che il montaggio video per cui già mi fa storcere abbastanza il naso per quanto poi lui mi sia anche simpatico però vabbè e come lui ce ne sono tanti altri non voglio soffermarmi proprio su di lui però c'è insomma se youtube dovesse chiudere tutti questi signori cosa farebbero cioè addirittura non lo so potrebbero decidere di seguitemi su facebook donatemi la perché adesso non so più cosa fare visto che youtube ha chiuso ma poi dico se tu youtuber fai la cattone e dici quasi non avere soldi secondo te i tuoi iscritti sono tutti figli perlusconi cioè perché io dovrei darti 5 euro per quello che offri su youtube ma nessuno ti ha messo una pistola alla tempia e ti ha detto fai un video ok perché io preferivo la youtube di tanti tanti anni fa perché la gente faceva video li pubblicava e come andava andava e si divertiva adesso una persona che vuole fare video su youtube la prima cosa a cui pensa è la monetizzazione monetizzazione monete monete sonanti ecco non c'è più la voglia di fare qualcosa di carino di interessante io continuo ad amare quei quei video ad esempio fatti dai fan per per dei telefilm per che ne so per lo sport perché sono fatti con l'intento di dati veramente da una passione prima di tutto per per quella determinata disciplina mettiamola così o o produzione o quello che è e poi perché comunque vogliono suscitare anche in chi guarda questi video delle emozioni invece sta gente la prima cosa che fa quando si iscrive voglio monetizzare voglio guadagnare non importa cosa faccio non importa cosa dico devo avere una un'entrata economica ma davvero lasciatevelo dire fate schifo fate schifo e vabbè ma la passione qua la passione la passione ci deve sempre essere in tutte le cose adesso venitemi a dire che che tutti hanno la passione di youtube tutti con tutte le passioni gli hobby che esistono tutti hanno una passione per youtube nessuno ha la passione che ne so per ma che ne so per costruire un una casa di lego perché non c'è un guadagno una volta che tu l'hai costruita non è che ti torni indietro qualcosa no tutti hanno una passione per youtube youtube è una passione fare video è una passione quindi è un lavoro e quindi io devo essere remunerato ma dove sta scritto ma chi lo dice vabbè non so quanti minuti ci ho messo forse troppi vabbè in quasi dieci minuti per dire che youtube è diventata la piattaforma degli accattoni punto e basta non importa se uno si chiama mister accattonacci non importa se uno si chiama l'inspiegabile non importa tutti tutti accattoni tutti solo con la voglia di avere soldi di ricevere soldi facendo poco facendo poco perché nessuno qui sta sudando diciamocelo molto chiaramente nessuno suda va bene direi che per questo video è tutto e alla prossima e donate 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 tanti calci nel culo ciao 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 ciao